Musica 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 Vengono tutte da Paetone, amici da casa, sono loro, sono le amiche della nostra sposa, la nostra Veronica, ciao Veronica, hai un microfono speciale vicino al tuo volto, un doctor che lo vedo anche qui sulla fascia, quello lo usa per l'intervista a caldo, adesso usa quello vero per presentare le tue amiche, dai, la microfono vicina vicina con la bocca. Ma posso girarlo? Sabrina, Sabrina detta, Sabrina detta, Sabrina detta, Sabri, la Sabri, la Sabri, la Sabri, ok, poi? Sabrina! Un'altra Sabrina, detta Sabri, detta Sabri due Sabri due Sabri, ok, Silvia, detta Silvia, BONE, 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 c'è un motivo? Perché è BONE? No, così, la BONE, ok? poi abbiamo la ragazza che vede dieci dieci sì Elisa 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 detta? Apo Apo? C'è una storia dietro? Lasciamo perdere? Alessandra detta Ale ah ecco adesso parla sola guarda Alessandra è tale ok Giulia detta Giulia con la C? Giulia la Giulia? Giulia ok e presentati Veronica detta? Veronica Verusca Verusca Verusca? No non è vero! Verusca? Si chiama così il tuo finanzato no? Sì la chiama Verusca? Ah non Veronica Verusca! Ciao Stefano! Ciao Stefano! Come lo chiami nell'intilità Stefano? Ma non mi chiama Verusca Verusca! Sì Verusca vieni qua! Verusca mi tutto! Sì! Verusca mi! Verusca mi! Così è una roba selvaggissima col frustino robe varie! Sicuramente! Vi accoppi così al paitone! E il posto più strano dove avete fatto l'amore allora già che ci siamo? Allora se c'era la tua mica Elisa non ti ha visto guarda dietro guarda vai tranquilla che se in quel posto c'era Elisa stai tranquilla che non ti ha visto Non lo so! Non me lo ricordo! Lo faremo dire a lui quando verrà qui a festeggiare il suo piano Milano a Celi Barca! Ah perché verrà qui? Forse! Forse! settimana prossima? Ci può essere! Lo aspettiamo con il pazienza! Allora lo scopriremo nella prossima puntata! Bravo! Però in questa voglio scoprire come ha fatto a chiederti di sposarti! Eh non me l'ha chiesto! T'hai obbligato? Attenzione! Fatela entrare! Ah è la vostra amica? Sì sì! Aspetta un attimo! Intanto distretemi con il ragazzo! Ecco attenzione ma assaggiatemelo intanto che apriamola! Ecco ok! Ah è di qua! È arrivata anche lei! È arrivata anche lei! Me la presenti Veronica? Me la presenti? Letizia! Tetta! Leti! La Leti! Eh un applauso anche alla Leti! Intanto che ti aspettavano Leti le ragazze hanno massaggiato il ragazzo bisognoso eh! Anche tu che fai? Che fai? Perché ti testa la Sabrina? Va bene! È arrivata la Leti la pallavollista del gruppo immagino? Sì! Bravo! Ha visto che è arrivata subito a schiacciare? Va bene ragazze adesso Stefano da casa quando vedrà questo video dirà non vedo l'ora di sentila cantare e di sentila cantare le sue amiche! Quindi partiamo ragazze! Partiamo partiamo! Dedicata a qualcuna in particolare? A noi! A voi! Alla spasa! Alle belle ragazze di Paitone e soprattutto la bella Veronica! Quella! Quella! Ma le parole! Sì! E gira, gira il moto E gira il moto e gira il te E gira il moto Perché il moto non c'è Nelle parole bella Come una macchina Un'acqua cristallina Come una macchina E il franello Illumina tutti Allora come fare Com'era sottofino E il franello Ritagate a rinca E il franello Il franello Che il moto 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 E quando il moto Che il moto are Pensa dopo un anno di lavoro, bella, forte come un fiore, dolce di dolore, bella il cuore, bella il cuore, bella il cuore, bella il cuore. Poi amministra, pizzi a pesci, viva, di cambiare il cuore, al cuore. Pensa dopo un anno di lavoro, bella il cuore, 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 bella il cuore. Pensa dopo un anno di lavoro, bella il cuore, bella il cuore, bella il cuore. Pensa dopo un anno di lavoro, bella il cuore, bella il cuore, bella il cuore, bella il cuore, bella il cuore. Pensa dopo un anno di lavoro, bella il cuore, bella il cuore. Pensa dopo un anno di lavoro, bella il cuore, bella il cuore. Pensa dopo un anno di lavoro, bella il cuore, bella il cuore, bella il cuore del cuore. facciate tutte assieme, voglio vedere che la facciate tutte assieme, partiamo dal basso ragazzi, dal basso, dal basso, così, perché, volete fare il cagnolino, volete fare il cagnolino, a lei piace quando fate il cagnolino, ma a lei piace soprattutto urlare insieme a voi che si sposano, Vuri Veronica! Grazie a tutti!